Carlo Sanchezze Quando pensiamo alla parola confine, possiamo intenderla in due modi. Da un lato, immaginiamo un divieto, un cartello che dice di qui non si passa. Oppure possiamo immaginare una sticella da superare. Una barriera che divide due mondi, delle colonne da oltrepassare, direbbe Ulisse, mossi da una fame di conquistare qualcosa di nuovo. Sarà che fin da piccolo i miei genitori mi hanno insegnato a non sentirmi mai sazio, a non sentirmi con la pancia piena? Sta di fatto che la mia vita è sempre stata caratterizzata da questa fame di oltrepassare i confini e di scoprire cose nuove. E questo è quello che cerco di trasmettere anche ai miei figli. Questa fame ha sempre caratterizzato la mia vita. La prima, questa fame mi ha consentito di terminare gli studi lavorando prima dell'ordinario tempo con cui si concludono gli studi. Poi in regione Lombardia è un'esperienza incredibile nel superare, nel tentare di superare quotidianamente il limite e il confine di essere percepito da fuori come il burocrate che ruba lo stipendio. E all'interno di cercare di spingere i colleghi a mettere in discussione il normale modo con cui si fanno le cose. Ecco, quindi i confini o scatenano la fame del mettere in discussione il si è sempre fatto così, oppure possono iniettare una sorta di anestesia in cui autogiustificare il fatto che va benissimo continuare a fare così. E quindi la differenza tra l'essere protagonisti della realtà o essere delle semplici comparse. Ma l'esperienza più interessante e personale è quella che è iniziata tre anni fa. Siamo a marzo 2016, l'Expo di Milano si è appena concluso con dei risultati straordinari. Milano sta vivendo un dinamismo economico e sociale che non viveva da anni. Eppure proprio in quel luogo, un milione di metri quadri dove si è raggiunto questo successo, si rischia di essere di fronte a una grandissima delusione di proporzioni globali. Un milione di metri quadri, non si ha un'idea di sviluppo e siamo lì. Nessuna prospettiva. Are Expo era la società che aveva acquisito le aree e aveva il compito di cercare un privato. Ha fatto una gara tradizionale e nessun privato si è affacciato. L'unica certezza per gli investitori privati era proprio l'incertezza delle regole e dei tempi con cui investire qualche miliardo. E allora quale sfida più interessante che superare un confine di questo tipo? Allora, da un lato non bisognava deludere le aspettative di Expo. Dall'altro c'era la possibilità di realizzare un progetto che diventasse un po' il simbolo della credibilità della pubblica amministrazione italiana. Dall'altro attirare degli investitori privati e delle risorse private, oltre che quelle pubbliche. E poi realizzare un progetto di lungo periodo che diventasse un po' il simbolo un modello di rigenerazione urbana da esportare anche nel mondo. E in ultimo consolidare e rilanciare Milano come un luogo di innovazione. E allora torniamo a tre anni fa. Siamo al primo aprile 2016. Io lavoravo in Regione Lombardia. Ero vice segretario generale. Arexpo era una scatola vuota, non aveva né dipendenti né sedi. Lavoravo con Giuseppe Bonomi e insieme decidiamo di raccogliere questa sfida. Costruire da zero una società di sviluppo territoriale. Costruire tutto il processo che portasse alla realizzazione di un progetto di lungo periodo. Andando a cercare le risorse e i partner, i partner e le risorse finanziarie con cui realizzarlo. Dove avevamo in mente, dovevamo partire da una visione. La visione intesa sia come prospettiva, ma anche come immagine di qualcosa che non c'è ancora, ma che tu vedi e che agli altri sembra irrealizzabile. Avevamo chiaro che dovevamo costruire un luogo che non fosse la sommatoria di edifici fisici, ma che fosse un luogo con le sue relazioni, con tutte le sue dinamiche economiche e sociali. Pensavamo prima a questo che agli edifici. Dovevamo però trovare le parole giuste per identificare questa visione. E allora abbiamo pensato a ecosistema dell'innovazione. Poi l'abbiamo definita MIND, Milano Innovation District. MIND è proprio un insieme, l'abbiamo immaginato, come un insieme di spazi fisici e di relazioni in cui la connessione tra i protagonisti dell'innovazione creano una cultura dell'innovazione per favorire la ricerca, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo. Un ecosistema dell'innovazione basato principalmente su tre ancore pubbliche. Un campus universitario con 20.000 studenti delle facoltà scientifiche dell'Università Statale di Milano, un grande ospedale con funzioni di ricerca come il Galeazzi, con 600 posti letto, 10.000 persone al giorno. Il cantiere è già partito, è già pieno regime e sarà completato nel 2021. E infine un grande istituto di ricerca sulle scienze della vita, lo Human Technopole, in cui 1.500 ricercatori da tutto il mondo vengono lì a lavorare sulle frontiere della medicina e della nutrizione personalizzata per prevenire e curare le patologie più complesse del nostro tempo. I primi ricercatori si sono già insediati e il progetto sarà a regime tra 4-5 anni. Quindi un ecosistema dell'innovazione basato sulla qualità della vita. Da un lato concentrando le competenze scientifiche proprio sulle scienze della vita, dall'altro però anche l'occasione di mettere insieme competenze scientifiche e industriali per la costruzione della città del futuro. Mind sono un milione di metri quadri, quindi le dimensioni di Mind, in aggiunta l'infrastrutturazione ereditata da Expo, rappresenta un unicum a livello internazionale per sperimentare le innovazioni che caratterizzeranno la costruzione delle città del futuro. Nuovo modo di muoversi, di lavorare, di studiare, di stare insieme. Una grandissima occasione. Ecco, per attuare una visione di questo tipo avevamo bisogno però di innovare gli strumenti amministrativi. Pur dentro il quadro normativo attuale ci siamo inventati una procedura per costruire una partnership pubblico-privato in cui il pubblico resta proprietario dell'area e il privato si prende l'impegno di progettare, realizzare e gestire nel tempo investendo più di 2 miliardi di euro. E allora quali le novità di questa partnership pubblico-privato? Allora, da un lato il pubblico resta proprietario dell'asset su cui ha fatto ingenti investimenti e dall'altro si tiene il rischio autorizzativo che troppo spesso tiene lontani proprio gli investitori privati per l'incertezza dei tempi. Are Expo nasce proprio per garantire tutto l'iter autorizzativo in modo tale che il privato si concentri sul proprio rischio che è il rischio finanziario e industriale. Al privato gli viene chiesto non solo di progettare questo sviluppo ma anche di realizzarlo. Pensate a quante volte su grandi aree si sono pensati dei grandi progetti che poi sono rimasti nel cassetto perché non c'erano gli investitori che potevano realizzarli. E non solo progetta e realizza ma anche gestisce nel tempo. Al privato gli viene chiesto di gestirlo per 99 anni. Quante volte succede che gli investitori costruiscono e poi scappano dall'investimento, vendono e non si curano del fatto che questo valore creato resti nel tempo. Questo ci ha consentito di selezionare un partner internazionale come Landlease è uno dei più grossi developer al mondo che oggi gestisce più di 70 miliardi di dollari di investimenti di rigenerazione urbana nelle più grandi città del mondo per realizzare un progetto che non è una semplice trasformazione urbanistica ma proprio una trasformazione economica e sociale del territorio. Ecco, per attuare questo progetto la parola chiave è sicuramente la flessibilità, flessibilità degli strumenti urbanistici che non possono irrigidire un progetto così dinamico con gli iter autorizzativi. E dall'altro però flessibilità anche del modo di progettare e costruire la città. Pensiamo per esempio, perché anche gli spazi fisici oggi si devono adattare a queste dinamiche in continuo cambiamento del modo di lavorare, di studiare, di vivere. Pensiamo per esempio al tema della mobilità. Mind sarà un luogo in cui ci vivranno e lavoreranno 60 mila persone ma se noi facessimo dei parcheggi come li facciamo oggi interrati faremo una roba assurda e allora stiamo progettando i parcheggi di questo luogo non interrati ma in modo tale che domani possono essere trasformati in altro. Probabilmente l'investitore che viene a investire e poi scappano non ci penserebbe. Dunque un modo nuovo di concepire gli spazi pubblici e privati ci ha portato a pensare a un parco che non è una mera compensazione ambientale del costruito ma diventa un asset che connette le diverse funzioni e dall'altro che diventi un vero e proprio luogo del lavoro e della vita. un asset proprio di quel vivere e dall'altro abbiamo pensato che tutti i piani terra di questo luogo siano degli spazi aperti sia negli edifici pubblici che in quelli privati proprio perché devono diventare luoghi che favoriscano le contaminazioni tra i diversi protagonisti dell'innovazione tra gli studenti, i lavoratori, i ricercatori ma non solo tra di loro ma anche aperti alla gente del territorio perché il territorio, i cittadini devono poter respirare questa cultura dell'innovazione che è una grande occasione di sviluppo dell'intera società e non un privilegio di un'elite minoritaria di scienziati. quindi mind sono le persone che ci vivono e ci lavorano gli spazi fisici devono essere fatti su misura per chi ci vive allora noi decidiamo di viverci, vogliamo viverci e per questo che abbiamo fatto un progetto mind lab per coinvolgere da subito le imprese che vengano subito a sperimentare le proprie innovazioni hanno già risposto 117 imprese per venire a sperimentare nuovi modi di pensare la città e l'altro progetto è Mind Education noi da subito vogliamo che le nuove generazioni, gli studenti dalle scuole primarie all'università siano protagonisti di questa sfida e non solo siano protagonisti perché ci vivranno ma la loro creatività è fondamentale nella costruzione della città di domani perché le dinamiche delle nuove città saranno le dinamiche delle nuove generazioni non delle nostre, non della nostra ecco queste sono le sfide che abbiamo lanciato alle istituzioni alle imprese e alle persone affinché il nostro territorio, questo territorio Milano, la Lombardia, il nostro paese sia guardato da tutto il mondo come un luogo capace di guardare il futuro con positività ma non solo di guardarlo ma di saperlo creare e costruire senza sentirsi con la pancia piena ma con la voglia sempre di superare nuovi confini grazie 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 grazie